Secondo un commentatore reale, Meghan Markle potrebbe avere la scusa perfetta per evitare di tornare nel Regno Unito per far visita alla sua famiglia. Secondo un esperto reale, Meghan Markle potrebbe usare una scusa per fermare eventuali future visite nel Regno Unito da parte sua, del principe Ferri e dei loro due figli, il principe Archie e la principessa Lilybe. In seguito alla diagnosi shock di cancro della principessa Kate, si è ipotizzato che lei e il principe William abbiano offerto un ramoscello d'ulivo a Ferri e Meghan. Secondo The Mirror, il futuro re e la regina hanno invitato i reali residenti negli Stati Uniti a visitare il Regno Unito con i loro due figli. Ma Meghan avrà l'ultima parola sul ritorno nel paese natale di Ferri, ha detto l'esperto reale Richard Fitzwilliams. Ha detto al Sun che il duca di Sussex, perdendo recentemente la sua richiesta di maggiore sicurezza, avrebbe dato a Meghan una, scusa, per evitare l'imbarazzante riunione, tuttavia, la sicurezza non sarebbe un problema, ha affermato Fitzwilliams. Ha detto, la sicurezza sarà decisa caso per caso. Si assicureranno che il viaggio fosse sicuro dal punto di vista del Regno Unito. Credo però che la sicurezza potrebbe essere usata come scusa per non venire. Si prevede che il principe Ferri farà un viaggio di ritorno oltreoceano già il mese prossimo per il decimo anniversario degli Invictus Games, con una cerimonia che si terrà a Londra. La riunione sembra ancora più possibile dopo la recente telefonata dei fratelli, dopo l'annuncio del cancro di Kate. Fitzwilliams ha detto, Ferri sarà qui ad un certo punto a maggio, e forse prima di allora per vedere Ray Carlo.